Diverse aziende del farmaco lavorano con uno stretto legame con la comunità dei pazienti. Questo si è visto anche durante la quinta edizione del premio giornalistico Omar che si sta svolgendo oggi a Roma. E tra le aziende che appunto collaborano molto con la comunità dei pazienti vi è Vertex, un'azienda focalizzata sulla fibrosi cistica. Abbiamo approfondito questo legame, questo collegamento con il dottor Giacomo Barruchello di Vertex. Allora dottore, può parlarci di questo forte legame con la comunità dei pazienti? È una storia affascinante che nasce diciamo subito dopo la fondazione dell'azienda, laddove la fondazione fibrosi cistica degli Stati Uniti era alla ricerca di un partner per lavorare su questa patologia così drammatica e con pochissimo supporto farmacologico. L'itinerario della richiesta l'ha portata a chiedere a molte grandi aziende, le quali naturalmente non potevano dedicare una linea di ricerca a questa patologia per la numerosità di pazienti troppo esigua. Dopo diversi tentativi è arrivata a Vertex ed è nato questo progetto comune, che noi siamo stati ben lieti di approcciare e di portare a termine con successo. Quindi in questo momento la nostra ricerca ha già prodotto due farmaci per la comunità dei pazienti con fibrosi cistica. Al momento le terapie che avete coprono solo alcune mutazioni. Avete intenzione di dare risposta anche agli altri pazienti nel prossimo futuro? La nostra ricerca ha continuato a lavorare e continua a lavorare sull'area della fibrosi cistica che occupa la maggior parte delle nostre risorse progettuali in ambito di ricerca di base. Due farmaci ulteriori sono arrivati a delle significative dimostrazioni di fase seconda e terza. Uno è una combinazione ulteriore tra Livacaftor e un correttore di tipo diverso che arriverà più velocemente. Un secondo è che il nostro obiettivo finale invece è una combinazione di tre farmaci che dovrebbe potenzialmente, e se i risultati saranno confermati nella fase terza, offrire una soluzione per una quota molto significativa di pazienti. Il nostro obiettivo è offrire una soluzione a tutti i pazienti con fibrosi cistica. Ci sono alcune mutazioni rare che per ora non trovano un sopporto farmacologico nella nostra ricerca e anche per loro stiamo pensando a delle soluzioni. Sono soluzioni diverse, ma l'obiettivo è quello di offrire una terapia a tutti i pazienti con fibrosi cistica. Si tratta di terapie innovative che sono spesso accompagnate da un costo elevato e in futuro questo potrebbe essere non sostenibile. C'è qualche soluzione a cui auspicate voi come azienda? Noi stiamo lavorando, abbiamo lavorato tradizionalmente nel corso di questi quattro anni di vita di Vertex Italia con le autorità sanitarie, abbiamo trovato sempre una soluzione, managed entry criteria, li abbiamo applicati, si trova un accordo anche all'interno degli strumenti disponibili. Quello che noi auspichiamo è un riconoscimento e un premio per l'innovazione in maniera tale da riuscire a reinvestire queste risorse in ricerca e sviluppo. Un dato molto importante da sottolineare per quanto riguarda Vertex, pertinente relativamente a questo tema, è che l'azienda ha reinvestito negli ultimi cinque anni una media dell'86% dei suoi proventi in ricerca e sviluppo. Quindi c'è un impegno totale rispetto al quale noi confermiamo la nostra stabilità in questo impegno. Di sicuro ci sono delle problematiche che vanno affrontate, di sicuro è possibile razionalizzare la spesa per trovare delle risorse a dedicare ai farmaci innovativi, che è quello che noi ci auguriamo.